Il mio mio bicho! Caromia! Non si dovrei morire con quella roba! Ma che fegato hanno? Sì, con questo caso è il tempo. Sì, venga a contare. ma vedi le donne di Muglia di Sant'Avanglia io posso pensarti che sta porti proprio e sai come chi mi chiama? Giovanna la buongustaglia che ti baglio con quelle compresse infatti non ho le scarpe si pizze e chiamila che proviamo ah mi davo il mio po' di scarpe 46 e allora un uomo più grande una roba con un uomo più pieno scarpe 36 guarda sai quanto ti devo pagare? 40 anni che ti pregare? che le fiori che le fiori si si pecca Mario mio che non ti sono morto un paio di anni prima ahhh che contenta che salia 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 non ti devo ancora pagare la fattura cerca di pagarla cerca di pagarla vabbè boh dite l'abbè sicuro e te lo dico ma io no ma chi è di Maria te che da? to' padre nostro ciao ma signora ma signora oh vero faccio e ti mancherà e ti mancherà e ti mancherà ma signora ma signora voi vanno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mario mio, Mario mio. Ma gli era buono. Ma gli era buono. Mi sono sempre convinto che il povero di Giuliano e Patrizia sono qua. Le scarpe di Patrizia è sicuro. Il numero grande è così, con 36 di piedi è mai visto. Mai visto in vita mia. L'Urganica è parola di Giuliano. L'Urganica è parola di Giuliano. No, no, 5.000 euro di danni e me l'ha fatto questo uomo. È felice. L'Urganica è parola di Giuliano. 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 L'Urganica è parola di Giuliano.